Amici di All4Hunter, sono Massimo Tomei, il titolare dell'Armeria Tomei dell'Aquila. All'interno della nostra armeria c'è il Orange Point, siamo specializzati nella vendita soprattutto dei prodotti crispy ed oggi vorrei presentarvi un modello in particolare, l'Highland Pro-Mid, scarpa essenziale per il cacciatore che si imbatte in terreni umidi soprattutto e impervi. Come potete vedere ha una protezione, ha una sorta di ghetta incorporata che lo rende sicuramente impermeabile rispetto a tanti altri modelli ma nello stesso tempo anche riesce a proteggere la scarpa avendo questo materiale di protezione appunto. È antitaglio contro i rovi ed è forse la scarpa al momento più gettonata appunto dal cacciatore. Ha una suola molto grippante, un brevetto crispy all'interno in Gore-Tex che assicura al cacciatore una termoregolazione per i climi estivi o invernali, ha una protezione a un bordone studiato per resistere agli urti provocati dai sassi e dai rovi. È una calzatura estremamente facile da indossare grazie allo strappo che è sulla parte anteriore e facilita appunto la calzata. Vi ricordo ci troviamo all'Aquila e se avete voglia di venire a provare i nostri prodotti, in modo particolare le scarpe crispy, vi aspettiamo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 e 30 alle 19 e 30. oltre ai prodotti crispy troverete innumerevoli prodotti e novità del settore con arrivi giornalieri. Vi aspetto all'Aquila e via Salaria Antica Ovest.